Come ho detto, dite lo sviluppo. Questa è la botta della mamma. Sto schiazzando. Schiazzate, voi quando scrivete può schiazzare anch'io. Aspetto, hai sviluppato a metà. Ho schiazzato a scuola. E' una battuta. Relax. Troviamo tutti i riscontri in queste parole. Non è? Domani la patica si chiacchia di me. Come si permette l'opera editoriale. Domani voto qua. Fai come Tosi, che a prescindere qua. Sei Tosi, eh, Sava. Ah, sì? Sei Tosi. Ma ha dato anche sei a Farias, quindi stava un po' male. C'è stato un po' secolo. Anche lui. Perché alla fine... Di solito, due, cinque, cinque... Quando è arrivato, quando è arrivato, che ha visto Farias in panchina, mi fanno... Non c'è parte. Ecco perché mi ha dato sei a loro. Dopo un po', Farias gli ho dato sei, infatti c'è il mister. Sei anche a lui, sei anche lui. Ah, per quel motivo allora. Non ho detto niente. Quel mezzo punto perché Farias è stato un po'. Perché ha visto che la formazione iniziale gli è piaciuta. E gli pagare il culo.